quando facevo le mie serate da dj io fondamentalmente la prima cosa prima di iniziare a fare dj è stata quella di imparare la tecnica cioè di imparare come si mettevano i dischi perché per me non aveva senso andare a mettere i dischi a strappo e non aveva senso ancora prima di iniziare a farlo prima devi sapere come si mettono i dischi a tempo una volta che hai imparato come si mettono i dischi a tempo vai e fai il tuo repertorio e da lì ti muovi e poi metti le canzoni col tuo gusto certo non è che prima c'hai il repertorio poi vai lì e tutto fai tranne che il dj perché non stai facendo il dj stai facendo il selecta ma siccome poi ti piace scrivere dj posillipo capito ci sarà uno chiamato dj sicuro a qualche parte sì molti piace poi fa se mette il nome dj però se sei dj non fai selector capito selector fa un'altra roba ma arrivo al punto quando suonavo suonavo spesso in serate dove c'era un'alternanza di dj no quindi suonavi te però ce n'era uno prima uno dopo due prima e due dopo ok li vedevi il palco con altre persone c'è una diversa selezione la costante normalmente soprattutto nel mondo rock tensione quelli che mettevano la parte rock facevano le serate rock quindi non sto parlando del mondo della musica elettronica dove francamente non ho mai visto discutere su questo perché devi mettere i dischi a tempo è il mondo rock che ha imbastardito questa roba qui tant'è c'è uno che quello che suonava prima di me o dopo di me non avrebbe mai potuto mettere i dischi in una serata dense manco se gli davi i dischi te dici guarda la selezione te la faccio io adesso me li suoni perché non li sapeva mettere perché non era in grado di metterli a tempo quindi sarebbe stato fischiato oppure la gente se ne sarebbe andata invece questi signori facevano le selezioni rock e qui arriva l'altro discorso da un lato c'era un punto di vista tecnico di rispetto del pubblico quindi ti voglio dare una performance dove tu ti rendi conto che tra me e quei due prima c'è un abisso già soltanto da un punto di vista di approccio a la console dopodiché quindi prendiamoli il rock mettiamolo a tempo che ci vuole invece di suonare girls and boys e poi a strappo lose yourself the eminem capito con la gente che ho visto persone avere delle sincopi poverine perché stavano tutte capito che così poi frenate praticamente cioè com'è che si chiamava quell'altro dj a ringo com'è che lo chiamavate ringo è di dj to tip quindi praticamente quella sentivi c'era gente che finiva veramente con dovevi defibrillare perché si bloccano le gambe a certo punto o viceversa perché poi all'improvviso devi iniziare a correre capito ma cazzo ma perché venivamo da un pezzo lento per quale motivo però è vero è successo anche a me quindi vedevi ste piste impazzite però alla fine hanno vinto questi perché la l'approccio è diventato quello perché tutti suonavano così quindi nelle serate rock suonano tutti in questa maniera nonostante i computer la tecnologia figuratevi prima quando non c'era manco il tasto sync il tasto sync ha complicato le cose perché praticamente te le mettevano a tempo ma lose yourself andava alla velocità però capito e quindi stai appresso c'è anche un dj t in chiodo quindi diventava diventava un po problematica quando imbassardisci la scena diciamo la parte artistica in questa maniera imbassardisci anche il pubblico il pubblico poi non si aspetta nient'altro mentre nel mondo della house dove c'è una cultura del disco messo a tempo perché la prerogativa minima nessuno ci fa caso nessuno si aspetta che uno non suoni a tempo tant'è che se senti uno che suona fuori tempo dici ma che cazzo sta facendo questo cialtrone esatto sì invece questo è il contrario quando senti uno che suona a tempo dice ma che sta facendo questo questi cazzi non mi frega niente aspetto il prossimo che mi da quel sincopato che piace tanto al cardiologo quindi non hai imbassardito il pubblico quando imbassardisci il pubblico il pubblico non avrà pretese mentre nel mondo della densa dove c'è una cultura nel mondo del rap mica poi sono a strappo il mondo del rap ti incula perché il mondo del rap ha dj capaci di default dj capaci che mettono i dischi a tempo solo il rock ha imbassardito sta roba perché il rock che cosa fa avvicina persone che non hanno competenze musicali che hanno quel tipo di cultura generica un po alla virgin radio e mettono un po di tutto fanno quella selezione dove mettono dalle tattoo ai red dot chili peppers però ti metto ti metto anche la che ne so com'è bello far l'amore da trieste in giù mescolato appunto a lose yourself a un pezzo dei ramons quella roba che non ci vuole niente non ci vuole niente a suonare quelle cose capito soprattutto se non hai la prerogativa di doverle mettere a tempo e io mi ricordo che avendo sempre lavorato in una maniera diversa cercavo di fare delle scalette di proposizione quindi invece che suonarti le citofonate più citofonate del mondo ti suono qualche citofonata perché in pista ti ci devo tenere però cerco di darti qualcosa che a te che cosa ti interessa e questo è sempre il discorso questo è un discorso per me importante perché è come la musica viene percepita da noi anche radiofonicamente a te che cosa interessa ballare la canzone che conosci o ballare se ti interessa ballare io ti faccio ballare tu vuoi ascoltare musica o vuoi ascoltare musica che conosci e perché ti sto parlando delle serate rock perché le serate rock sono l'imbastardimento del concetto e della cultura del dj perché a fare rock non ci vuole niente tu penserai ma come ma forse è più difficile no è più semplice perché poi ti permette di suonare a strappo quindi senza avere nessuna compagnia finisce il pezzo schiacci play e parte l'altro oppure in tesero te coglioni devo il pezzo ma strabs bra e mettiamo un'altra cosa dopo quindi galoppi casino tecnicamente mortale quindi se io vedo te che stai da sopra e vieni pagato per fare questa roba e lo fai così io lo faccio a casa quindi dico vedi anch'io voglio andare a guadagnare 100 euro a fare sta roba che me frega dipende soltanto dai pezzi che metto i pezzi che mettono se li mettono tutti uguali quindi è sempre la stessa proposta musicale perché sentirai sempre le stesse classiche canzoni che ascolti ovviamente su verge eccetera perché rock è questo da noi questa roba qui mescolate chiaramente a cose un po a casaccio ma il punto lo ritorno sul discorso tu sei qui per ballare o sei qui per ballare il pezzo che conosci perché io quando suonavo i pezzi che conoscevano li ballavano i pezzi che non conoscevano per esempio passare mi ricordo una volta era il vox di non antola quindi con una pista enorme e era uscito lo stesso giorno little sister dei queens of the stone age e io ho detto gli metto il nuovo dei queens of the stone age cosa c'è di più bello vado a una serata mi sento anche una roba in anteprima che non che nessuno ha sentito gli ho messo quel pezzo e si sono aperte le acque la gente si è messa ai bordi e ogni volta in cui mettevo non dico un pezzo appena uscito ma un pezzo meno conosciuto la gente poi rimettevi il pezzo conosciuto sbra la gente ballava soltanto faceva fisarmonica la gente ballava solo le cose che conosceva tutto il resto non erano lì per ballare questo è il punto erano lì per sentire quello che conoscono questo è il più grande problema del nostro paese perché culturalmente questa roba qui vai in qualsiasi serata inglese vai in qualsiasi serata americana questo non succede questa roba qui succede solo da noi probabilmente in altri paesi mediterranei probabilmente in altri paesi indietro musicalmente ma questa roba succede solo da noi e questa cosa qui succede solo da noi anche quando fai proposta musicale perché se io adesso iniziassi a mettere pezzi conosciuti io raddoppierei il mio pubblico c'è poco da fare è una triste è una triste verità perché molte persone non sono qui per ascoltare musica o per conoscere musica sono qui o per ascoltare musica che conoscono oppure per sentirmi chiacchierare perché nella chiacchiera c'è l'imprevedibilità ma che ti tiene compagnia evidentemente non siamo più neanche abituati alla musica che ti tiene compagnia e sicuramente non siamo più abituati alla musica come ascolto attivo per cercare di memorizzare qualcosa questo problema ovviamente è un problema culturale insomma non sto a rinsistere su questa cosa però è veramente determinante ma è il motivo per cui lo dicevamo all'inizio alla fine resti sempre da solo cioè la pista è vuota gli altri vedono quello che fai però non sempre utilizzano il tuo come esempio positivo perché io mi ricordo che nel mio piccolo suonando comunque nelle serate avevo portato diverse persone almeno ad impegnarsi a mettere a tempo perché chiaramente si sentivano un po in difetto quindi loro dicevano li vedevi che provavano era meglio che ci provavano però uguale comunque a un certo punto però migliori e allo stesso tempo lo scopo è quello di migliorare il pubblico qualsiasi locale di house la gente balla a priori non conoscono un pezzo infatti credo che nelle serate di musica house shazam venga utilizzato in massa da orde di persone che vogliono sapere che è sto pezzo che è bello sto pezzo che cos'è ecco questo dovrebbe succedere sempre dovrebbe succedere qui dentro dovrebbe succedere alle serate di tutti alle serate rock perché è un modo per divulgare musica e per uscire dalla comfort zone voi tutti dovreste usare shazam io non dovrebbe sarebbe bello non passarvi manco un titolo non dirvi nulla cioè sono sono cose che allontanano pubblico sicuramente quindi svuoti ma quelli che restano restano per sempre perché imparano un'attitudine diversa quando poi il titolo glielo ridai loro hanno imparato a non partire dalla prevedibilità di quello che devono ascoltare o il fatto di conoscere io ascolto quando ascoltavo adesso non la sto ascoltando più bbc radio 6 music con shazam pronto pronto a screenshotare vero confermo perché era l'unica cosa che mi interessava ascoltare cose che non conoscevo se mi avessero messo il conosciuto io non l'avrei seguita ma che me ne frega di ascoltare una roba che già so quindi l'importante per me è sempre stimolare è la condanna di chi rimarrà sempre da solo apro alle riflessioni io non l'avrei seguiti